Come sempre in panchina siamo alla ricerca di nuove idee e qui ne fiorisce una nuova che è un bouquet trasportabile. Come sempre in panchina? Come sempre in panchina è un bellissimo oggetto di arredamento e non sfiorisce mai. Allora l'idea è nata dopo il mio Erasmus in Francia e appunto avevo tante amicizie che desideravo comunque mantenere nel tempo, avevo vari compleanni di amiche che si trovavano a distanza e così ho avuto l'idea di mettere in una busta qualcosa che poi loro dovessero creare con le proprie mani. E per questo perché in effetti il bouquet, lo facciamo vedere perché lo ha in mano Silvia, nasce in una bustina dove voi potete trovare petali e fiorellini insieme al fil di ferro per poi crearvi il bouquet di fatto. Sì, ognuno ha la propria composizione, ognuno sceglie il vasetto in cui metterlo, mi piace anche questa idea che uno debba andarsi proprio a ricercare sia la posizione sia proprio in che contenitore, magari riciclato, così. Sì, quindi c'è un po' un processo prima di arrivare ad avere il proprio bouquet in casa. Insomma, questa idea alle tue amiche deve essere piaciuta perché poi tu ne hai fatto un lavoro, no? In qualche modo. Sì, anche, tra le varie cose che faccio. Tra le varie cose che fai, perché lei è già venuta tra l'altro a trovarci in panchina e in altre occasioni sempre in veste di illustratrice. Il bouquet sta avendo davvero molto successo, bisogna dirlo. Sì, ho avuto delle belle soddisfazioni. Il bouquet che vedete in questa versione adesso è in versione rossa, in realtà la versione che tu stai producendo adesso è in un altro colore. È in oro. Color oro. Color oro. Però, insomma, il concetto è comunque sempre questo. Perché abbiamo voluto parlare di questo in panchina? Perché noi siamo sempre qui alla ricerca di nuove idee, nuove idee in qualche modo che siano made in Genova e questo lo è. Non solo, tu hai portato avanti adesso insieme al bouquet anche una linea di gioielli, sempre ispirati comunque al design del bouquet. Sì, esatto. È una collaborazione con una designer pugliese che realizza appunto gioielli in materiali poveri e in questo caso abbiamo scelto rame e ottone e quindi abbiamo riportato le forme del disegno originario di questa edizione del bouquet e abbiamo creato una linea collane, orecchini, spille. È appena stata presentata. Adesso arriva la primavera, quindi quale momento migliore di portarsi a casa un bouquet trasportabile completamente in carta e quindi anche un materiale che è rispettoso dell'ambiente e in più non sfiorisce mai, non dovete neanche dare da bere che mi sembra una cosa non da poco. Grazie Silvia per aver portato la tua novità con noi. In conclusione della nostra chiacchierata ti chiedo un piccolo consiglio letterario che io so essere a tema. Sì, mi è venuto in mente il libro Fatti il mazzo di Irene Cuzzaniti, edito da Il Sole 24 Ore Cultura, un libro anche illustrato da Irene Rinaldi per appunto Fioristi in Erba che mi fa vedere come creare composizioni reali, inedite. E quindi perché no, si potrebbe iniziare proprio da qua. Grazie Silvia per essere stata con noi, a voi come sempre ricordo che potete vedere e rivedere questa intervista sul nostro sito xliguria.it